Buongiorno e benvenuti a questo incontro di Biennale Democrazia dedicata all'acqua. Se siete qui avete certamente conoscenze già e consapevolezza dell'importanza di questo tema per cui due dati servono soltanto per aggiornare l'immensità della situazione che ci troviamo a discutere oggi. I dati sono questi. Due miliardi di persone vivono in luoghi dove l'acqua è un costante problema. Parliamo di acqua potabile. 3 miliardi e 600 milioni di persone hanno un accesso all'acqua inadeguato, per adeguato molto difficile, per almeno un mese l'anno. E si prevede purtroppo che nel 2050 saranno 5 miliardi. Quindi la popolazione, metà oltre a popolazione, metà della popolazione mondiale. Sono dati che vengono dal rapporto appena uscito dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale preparato per la COP26 che come sapete si terrà a Glasgow a novembre e dicono che inondazioni e siccità sono in aumento esponendo la popolazione mondiale a crescenti situazioni di crisi idrica. Negli ultimi vent'anni, e questo è il dato che fa veramente preoccupare moltissimo, negli ultimi vent'anni le riserve d'acqua, che sono la somma delle acque superficiali in varie forme e quelle sotterranee, inclusi anche poi in superficie neve e ghiaccio, sono calate a ritmo globale, sembra poco ma a ritmo globale è enorme, di un centimetro l'anno. La perdita è naturalmente più forte in aree, come sentite costantemente anche dai telegiornali, come l'Antartide, la Groenlandia, ma anche tutta la parte centrale delle globo ne soffre. E la situazione generale è peggiorata dal fatto che è lo 0,5% dell'acqua della Terra pianeta fatto di acqua, come sappiamo, che è utilizzabile come acqua potabile. C'è stato un aumento degli eventi estremi legati all'acqua, più 134% dal 2000 ad oggi come inondazioni, e fenomeni di siccità. Abbiamo tre relatori, siccome l'argomento è enorme e ha implicazioni che hanno a che fare con la democrazia, oltre che con la salute, con la sopravvivenza. Partiremo dalle esperienze di questi tre relatori, che ci racconteranno quindi in dettaglio che cosa stanno facendo e attraverso la loro esperienza verranno fuori tanti rivoli. La battuta è tremenda del tema principale. Alla mia destra è Luca Lucentini, benvenuto. Dottor Lucentini che è direttore del reparto di igiene delle acque interne dell'Istituto Superiore di Sanità ed è coautore di linea e guida sulla qualità delle acque potabili, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, oltre che tante altre cose. La mia sinistra è Paolo Romano, presidente della SMAD e gruppo SMAT, società metropolitana Acqua e Torino, da cui sapremo quanta acqua consumiamo, noi torinesi e in che modo, e non solo quello. E all'estremità del tavolo il dottor Emanuele Fantini che è docente, ricercatore, signore in politica e comunicazione dell'acqua di un istituto straordinario che si trova in Olanda e che forma a tutti i livelli gli specialisti sull'acqua e l'Istituto di Delft. Dottor Romano, allora, no scusi, Luca Lucentini, tanto posso partire da una notizia di cronaca che mi ha fatto sobbalzare, noi abbiamo l'ennesima infrazione per quanto riguarda l'inadeguatezza della nostra risposta per quanto riguarda le acque reflue, quindi noi paghiamo 60 milioni l'anno di multa all'Europa perché 2 milioni di italiani non sono collegati alle fogne. Scusate se partiamo da questo dato che fa parte? No, è molto originale questa partenza ma è il cuore del problema ed è la più trascurata, ci piace di più parlare di acqua come risorsa naturale, acqua di rubinetto, ci piace di più, ma il vero problema è lì, è nel trattamento delle acque reflue. Tutto quello che noi troviamo e ci preoccupano le acque, la gran parte lo abbiamo messo noi e non lo abbiamo spostato, se pensiamo alle microplastiche o a questi composti per fluoroalchilici che sono ormai nel sangue di molte persone veicolati dall'acqua, li abbiamo messi noi e non abbiamo fatto abbastanza per depurarle. La prima azione sarà quella di assicurare rapidamente il trattamento delle acque reflue, da cui dipende moltissimo, non solo economia, salute, ma anche la fruizione delle spiagge, tanti altri aspetti, stiamo lavorando, rimodernando i criteri, ma anche e soprattutto servono delle azioni locali importanti. La seconda è quella di adeguare i processi di trattamento, non nascevano per rimuovere per esempio residui di farmaci, anche questi possono essere dei problemi per l'antibiotico resistenza, sono dei serbatoi importanti. Mi perdoni se l'interrompo e poi lascio partire, ancora una notizia di cronaca, aspettiamo qualche giorno e poi dal Dipartimento di Luca Lucentini, l'Istituto Superiore di Sanità, arriveranno i dati sulle varianti del virus del Covid rilevate nelle acque di scarico e questo introduce un altro elemento, cioè l'acqua come messaggera di informazioni. Sì, grazie. L'acquareflo è in effetti la nostra memoria immediata, perché è evidente che un'acquareflo è un pool di campioni molto aggregato di un milione di popolazioni, per cui con le metodiche analitiche attuali è possibile addirittura rilevare frammenti di RNA non vitale del virus e quindi stimare la circolazione. Addirittura con una caratterizzazione del genoma è possibile anche stimare, come dire, da un satellite inverso, perché sotto il territorio urbano, la circolazione del virus nei territori, soprattutto per il ricircolo, cioè per aree indenni. Questo ci dà una premonizione di circa 7-15 giorni dell'incremento della curva, perché intercettiamo anche gli asintomatici, perché gli escretori di virus e quindi è un assetto importante la collaborazione. Qui abbiamo SMAT, Utilitalia, molti gestori. Devo dire che in quest'azione è difficilissima, perché immaginate raccogliere i campioni in tutta Italia e poi avere dei metodi armonizzati, non mi soffermo, è veramente stato importante. Credo che forse il messaggio più bello è stato quello di lavorare insieme. Per arrivare in un anno, sembra tanto, ma in realtà non lo è, ad un sistema paese che lavori finalmente in prevenzione e possa esportare questo metodo anche a tanti altri problemi. Se dovesse esserci un rischio di pandemia, le sentinelle sono finalmente allertate, le antenne sugli aeroporti, su sistemi critici, per intercettare questo problema sono ora attivi. quindi risposte e prevenzione sono andate una volta tanto di pari passo. Bene, però dunque, lei ci parlava del ciclo dell'acqua, vuole, ha portato qualche slide per farci capire meglio l'enormità di questo tema che noi tentiamo di prendere col cucchiaino. Sì, no, l'onore di questa platea, insomma, il confronto con tutte le parti, insomma, politiche, culturali del paese in queste vicende e anche internazionali. È tale per cui, diciamo, nel nostro osservatorio, che è quello soprattutto sanitario, abbiamo riflettuto su quali potessero essere i temi che secondo noi potevano essere importanti per l'accesso all'acqua in prevenzione. E allora abbiamo riflettuto su qualche spunto, che ora velocemente passo a proporvi, che è semplicemente qualcosa che deve farci riflettere su certezze che oggi devono essere messe in dubbio e modificate per fare la vera prevenzione, per garantire un accesso all'acqua, cioè per basarci su delle evidenze che sono un po' cambiate e che devono spingerci meglio. La prima è quella del ciclo dell'acqua. Lo studiamo con i nostri figli. Mia figlia non me lo fa descrivere perché dice che ne parlo troppo, però lo immaginiamo così e lo descriviamo così. In realtà non è più così. Il nostro ciclo idrico integrato, quello in cui appunto preleviamo l'acqua e la restituiamo al territorio, incide fortemente, tanto che alcuni scienziati ci hanno detto scordiamoci il ciclo dell'acqua naturale così come lo immaginiamo, perché il dominio umano, è tale per cui la presenza umana è persistente e le pressioni, vedete in colori diversi, di uso del suolo, cambiamenti climatici, utilizzo dell'acqua, su questo ciclo dell'acqua, sono tali per cui dobbiamo rivederlo e tenere conto di questo, altrimenti parliamo di evidenze diverse. E su questo ciclo incidono molti attori, noi non li immaginiamo, pensiamo, e soprattutto incidiamo noi, la consapevolezza di poter inquinare smaltendo in modo, non dico illecito, ma anche superficiale, alcuni prodotti incide fortemente su questo ciclo, perché l'acqua è sempre la stessa, la percezione che abbiamo anche dei cambiamenti climatici è che avremo meno acqua, no, l'acqua è la stessa dall'origine del pianeta fino a quando non ci sarà più, però sta al nostro governo, quindi sta alla nostra consapevolezza e senso civico. Il secondo spunto riguarda la storia, passiamo dalla biologia alla storia, sappiamo e immaginiamo ancora che la Mesopotamia, la terra fertile, dove appunto ripetiamo che la civiltà idraulica si è sviluppata lì perché fertile e ricca d'acqua, i dati ci mostrano, poi Emanuele sarà molto più preciso su questo, che la diminuzione delle precipitazioni dovuta anche a dei governi idraulici e delle dighe e tale per cui la migrazione, quel sito è ormai un deserto e le popolazioni sono migrate. Rifacciamoci un attimo alla storia, quindi l'idea di Rivo, quello di cui parlava dottoressa Drusin all'inizio, è forse un'immagine interessante nella storia, pensare a Rivo, cioè quel governo che derivava, il termine derivare deriva proprio da Rivo, quindi stornava delle piccole quantità d'acqua per usarle ad uso umano. Anche il termine divertire, quindi un clima roseo deriva da questo, divergere significa spostare l'attenzione, spostare il corso dell'acqua per altri scopi. Ma da questo clima, diciamo, idilliaco in cui usavamo l'acqua, la derivavamo, viene purtroppo anche il termine rivale, la radice è la stessa, e quindi rivalità quando questo accesso all'acqua non è garantito, questa condivisione non c'è. E purtroppo le crisi idriche sono messe al primo posto dalla Banca Mondiale come preoccupazioni del secolo, più ancora dei cambiamenti climatici e delle migrazioni. Il contesto è complesso e ha fatto sviluppare una vera e propria disciplina che crediamo e speriamo, detti la cultura futura, dal punto di vista scientifico fino a quello culturale, che è quello della planetary health, salute dell'uomo e del pianeta, viste come indigiunte. Perché se vedete quegli indici a sinistra, indici che sembrano figurine, ma sono meta-analisi statistiche importantissime, assistiamo a degli indici di salute fortemente incoraggianti, incrementi di vita media, decrementi di mortalità materna. Ma se confrontiamo questi indici con quelli a destra, cioè sulle risorse del Paese, vediamo che c'è una discrasia molto preoccupante. Quello che dobbiamo chiederci è, quando gli indici di sinistra dovessero arrestarsi, avremo abbastanza scorte di magazzino a destra per poterci lavorare? Ecco perché la salute umana non si interessa di ambiente solo per aspetti paesaggistici, ma dipende dall'ambiente. Questo concetto lo abbiamo portato in un profilo di clima del Paese, ma soprattutto lo abbiamo portato al, veramente possiamo dire, nel nostro piccolo come Italia, al G7 salute. Cioè nel G7 salute, negli anni in cui Trump non firmava il cambiamento climatico, ha però ammesso all'America che i problemi sanitari derivanti dal cambiamento climatico sono importanti al punto da richiedere delle azioni. E tra queste, come vedete, l'accesso all'acqua. Ultima lezione, e finiamo. Quella sull'accesso all'acqua. Cioè, ora, avendo rivisto, diciamo, delle consapevolezze innate nella nostra cultura, il ciclo dell'acqua, vediamo come porsi sul nuovo obiettivo. Importantissimi gli obiettivi di sostenibilità, perché sono tutti insieme in una tavola, non ne possiamo perseguire uno se non ne lavoriamo con l'altro. Dall'accesso all'acqua derivano ovviamente diritti fondamentali per tutto l'altro, per tutti gli altri diritti. Ma che significa accesso all'acqua anche in Italia? Abbiamo letto i dati nel mondo, li intuiamo. Ma cosa significa anche in Italia accesso all'acqua? Anzitutto essere consapevoli del valore incredibile che abbiamo quando apriamo un rubinetto, cosa che spesso ignoriamo, perché ricordiamoci che la potabilizzazione e la depurazione, di cui appunto si parlava all'inizio, sono state messe da medici, da personale medico, come la prima innovazione umana che ha salvato più vite, addirittura prima dei vaccini e degli antibiotici. Perché la mortalità per malattie idrodiffuse è una delle maggiori cause. E a fronte di questo è solo del 2010 quello che noi pensiamo e diamo per scontato come diritto universale. È del 2010. E dal punto di vista sanitario, uno dei documenti più scaricati del web, le linee guida sugli standard di qualità, oggi orizzontali per tutti i paesi, nascevano semplicemente negli anni 60 dall'esigenza di paesi occidentali di andare in paesi terzi ed essere garantiti di non restarci male per qualche malattia idrodiffusa. E allora furono messi questi standard, semplicemente per dire, quando arriviamo vogliamo delle sicurezze, semplicemente per quando ci laviamo. Ma questo non è storia, è oggi. Oggi abbiamo molte acque, sapete, possiamo riempire il bicchiere con acque di diversa origine. È importante che ne capiamo la differenza. L'acqua potabile è un diritto umano, quella che arriva al nostro rubinetto. Le altre sono beni di mercato, pregiate, sicure, tanto quanto la prima. Ma su una cosa dobbiamo riflettere. All'inizio del secolo l'acqua minerale era considerata un farmaco. Perché lo era? Non tanto perché si immaginava perché era dotata di sali minerali o meno. No, lo era perché era sicura. Perché quell'acqua, rispetto ai sistemi di potabilizzazione empirici, quando c'erano, dava sicurezza di non ammalarsi. E quindi, perché era, proveniva da sorgenti e veniva imbottigliata in modo sicuro. Ecco, quindi questo che era un farmaco ed era costosissima, quindi si moriva per questo. Oggi l'abbiamo garantito al rubinetto. Questo lo dobbiamo sapere. È un po' come i vaccini che sono distribuiti gratuitamente. E quindi, quando pensiamo anche al costo dell'acqua, che ci fa svilire questo bene rispetto, per esempio, ai servizi telefonici o meno, dobbiamo pensare che la vogliamo pagare così poco perché è un diritto. E questo deve essere mantenuto, ma non perché vale poco. In questo, appunto, la salute vuole mettersi al centro, vuole lavorare con gli altri settori. Ed oggi è una delle occasioni più belle, da tanti punti di vista, per fare questo. E speriamo che, appunto, si continui. C'è una continuità. Prima, vedevo nei nostri archivi dell'Istituto, in mancanza di maestranze che costruissero acquedotti, l'Istituto di Sanità si lavorava proprio addirittura a vicariare queste maestranze per garantire la salute, appunto, attraverso la distribuzione dell'acqua. Quello che vogliamo fare oggi è contrapporre, affiancare al concetto di One Health, la salute unica, la salute umana, animale e dell'ambiente, a One Water. Cioè, un concetto che consenta all'Italia di entrare nel protocollo Acqua e Salute dell'OMS e concepire l'acqua come un unicum, perché poi è la vera e propria economia circolare e ce la insegna l'acqua. L'acqua ha un ciclo naturale e il nostro ciclo comunque non può interrompersi. Grazie. Grazie mille. Grazie mille a Luca Lucentini, Istituto di Superiore di Sanità, che ha veramente buttato sul tavolo un'infinità di spunti. Emanuele Fantini, lei di cosa si occupa esattamente? Ah, tra l'altro io vorrei dire soltanto questo. Non so se avete notato che noi parliamo sempre, quando si parla dei cambiamenti climatici, parliamo sempre delle emissioni, no? Le emissioni, le emissioni, cioè che è un capitolo fondamentale. Ma il nostro intervento umano sul ciclo dell'acqua, che non è più quello che era, è la base probabilmente di tutto, mentre ci si concentra molto sulle emissioni. Il problema è che forse si riesce in qualche maniera a incidere sulle emissioni, mentre sul ciclo dell'acqua, sul nostro interruzione, il ciclo dell'acqua è praticamente quasi impossibile. Un solo flash, quando pensiamo alle aree verdi che devono incidere nelle città per mitigare, quindi per mitigare le emissioni, diminuire le emissioni, assorbire la CO2 e anche farci vivere meglio e proteggerci dall'uso di calore, qualcuno pensa che vanno annaffiate queste aree. Per ripensarlo dobbiamo riusare l'acqua che depuriamo e dobbiamo depurare bene in modo da annaffiare questo. È un criterio che deve andare insieme, appunto, insieme agli SDG. Grazie di questo. Ed è questo un piccolo spunto tra i tanti. Chiedevo a Dottor Fantini di cosa si occupa. Perché Dottor Fantini si occupa di cose enormi. Per esempio di grandi dighe che stanno intervenendo in maniera pratica, politica. Ci dice qual è la sua specialità? Sì, grazie. Grazie dell'invito. Io negli ultimi anni ho avuto il piacere e il privilegio, lavorando all'Institute for Water Education di Delft in Olanda, di occuparmi di lavorare con un team di ricercatori e di giornalisti dei paesi del bacino del Nilo, in particolare dell'Etiopia, del Sudan e dell'Egitto, per fare ricerca ma fare anche azione su il ruolo dei media e della comunicazione scientifica nei conflitti che venivano ricordati prima, il termine rivale, deriva da river, da riu, e nei processi di cooperazione lungo il Nilo, che negli ultimi anni sono stati scombinati dalla decisione dell'Etiopia, del governo etiope, di avviare nel 2011 la costruzione di una delle più, di quella che una volta completata sarà una delle più grandi dighe africane che alimenterà il più grande impianto di produzione idroelettrica del continente africano, che permetterà di decuplicare l'attuale produzione di energia dell'Etiopia, in cui la maggior parte della popolazione, soprattutto in ambito rurale, non ha accesso a una fonte di energia, ma che ovviamente crea anche tutta una serie di preoccupazioni e problemi a valle, quindi in Sudan, perché la diga che si chiama grande diga della rinascita o del rinascimento etiope, si trova a 20 chilometri dal confine con il Sudan e 10 chilometri a valle, inizia invece il primo bacino della prima diga sudanese, che però è grande un quindicesimo di quello, quindi immaginate cosa significa per il Sudan per avere questa diga che incombe alle spalle e ovviamente tutti abbiamo studiato fin dalle elementari il ruolo che Nilo ha ricoperto per lo sviluppo della civiltà, della storia, della società e dell'economia egiziana e quindi gli egiziani sono preoccupati che questa diga in qualche modo renderà più insicuro il loro accesso e quella che loro definiscono la sicurezza idrica. Questa grande contesa viene spesso riassunta sui media o anche nei dibattiti scientifici con il termine di guerra per l'acqua e quello spesso di cui mi si chiede di parlare di intervenire, di scriverci, ah puoi parlarci delle guerre per l'acqua. Guerre per l'acqua che a mio avviso è una questione, è un punto di vista magari importante per lanciare l'allarme e sottolineare un elemento che i temi dell'acqua sono temi non solo ambientali, non solo tecnici ma sono anche questioni politiche, ma si tratta di un'interpretazione estremamente riduttiva. Pongo una domanda alla sala per capire come questa visione della guerra per l'acqua riduce, semplifica questioni estremamente complesse. Vi chiederei di alzare la mano a chi pensa che la sconfitta di Trump sia stata causata dai cambiamenti climatici. Chi è d'accordo con questa affermazione alzi la mano? Un po', vedo qualche, sono facce molto perplesse, ma perché? Perché sembra una questione di sicuro un termine estremamente riduttivo di porre il problema e di analizzare un evento complesso come un'elezione politica. Però questi sono l'ottica, l'approccio, la chiave di lettura con cui noi tendiamo purtroppo ad interpretare fenomeni altrettanto complessi che avvengono in realtà extraeuropee. In Egitto aumenta il prezzo del pane, scoppia la rivoluzione e la primavera araba. In Etiopia appunto si costruisce una diga, scoppia la guerra per l'acqua. Riduciamo eventi estremamente complessi ad un'unica spiegazione. Purtroppo la guerra per l'acqua che sui media viene annunciata proprio nel bacino del Nilo a causa della costruzione di questa diga in Etiopia non è scoppiata così come non è scoppiata la guerra per l'acqua che si annunciava in quella che una volta era la Mesopotamia, oggi la Siria. In Siria c'è una guerra civile, in Etiopia purtroppo c'è una guerra civile che scoppiano e continuano a scoppiare per motivi politici, ragioni ideologiche, fattori, rivalità etniche anche in Etiopia. Quindi l'idea della guerra per l'acqua è un'idea che lancia un allarme e pone un punto importante, la dimensione politica dei problemi ambientali, ma poi in qualche modo uno non ci fornisce gli strumenti per capire, per interpretare, per rappresentare questi conflitti e due soprattutto crea una serie di problemi in quanto disconnette. Disconnette in che senso? Mi è piaciuta la slide di Luca Lucentini in cui c'era l'acqua connessa a tutta una serie di altri obiettivi di sviluppo. L'acqua è un elemento che connette per definizione per chimica e anche perché connette elementi, connette paesi, connette persone, discipline. L'idea di guerra per l'acqua invece è un'idea che disconnette. Disconnette perché quello che i miei colleghi, i giornalisti, ricercatori dell'Etiopia e dell'Egitto per prima cosa ci dicono è per favore non usate questo termine guerra per l'acqua perché nel momento in cui l'acqua viene associata alla guerra diventa un problema di sicurezza nazionale, quindi diventa un problema che è riservato ai militari, all'intelligence, alla security. Noi non abbiamo più spazi di libertà d'espressione, di libertà di ricerca, di esprimere il dissenso, di portare quelli che sono sul tavolo quelli che sono i veri problemi, problemi della qualità dell'acqua del Nilo, il problema della distribuzione dell'acqua del Nilo all'interno dei paesi dell'Egitto, del Sudan e dell'Etiopia, il problema della distribuzione dell'energia che verrà prodotta dalla diga all'interno dei paesi prima ancora che tra i paesi. Quindi rappresentare il problema come guerra per l'acqua disconnette i paesi e chiude gli spazi per la libertà di espressione e di ricerca e anche per la promozione di un dialogo costruttivo, di un confronto costruttivo, che è quello che invece stiamo cercando di fare noi con un gruppo di giornalisti e di fotografi di diversi paesi del Nilo proprio per cercare di ribaltare la rappresentazione. E concludo con una riflessione proprio su come rappresentiamo l'acqua in due sensi, la rappresentazione in termini di descrizione del problema e quindi vi ho spiegato perché descrivere il problema con la guerra per l'acqua non rispecchia fedelmente quello che succede nel territorio, ma anche rappresentazione nel senso di parlare, non nel senso del significato politico, io rappresento qualcuno, parlo a nome di qualcuno. Uno degli sviluppi più significativi nel diritto che sta avvenendo a livello globale è quello di riconoscere la personalità giuridica ai fiumi, cioè di dire i fiumi al pari degli esseri umani hanno dei diritti. Allora la questione è ma chi parla a nome dell'acqua, chi parla a nome del fiume, chi rappresenta il fiume. Con un gruppo di fotografi e giornalisti abbiamo avviato questo progetto che si chiama Everyday Nile, cioè il Nilo al quotidiano si potrebbe dire, proprio per cercare di rappresentare l'acqua e il fiume ribaltando la chiave di lettura delle guerre per l'acqua, perché la chiave di lettura delle guerre per l'acqua sui social media poi cosa diventa? L'interesse nazionale dell'Etiopia contro l'interesse nazionale del Sudan, contro l'interesse nazionale dell'Egitto e la mia diga, dicono gli etiopi, salvate il nostro fiume, dicono gli egiziani. Quello che noi stiamo cercando di portare è invece di ribaltare questa rappresentazione e dire siamo noi che apparteniamo al fiume, siamo noi che apparteniamo all'acqua, quindi mettere in comune il fiume nel senso non di metterlo in comune dicendo è mio, è tuo, ma nel senso di dire interroghiamoci su quelli che sono i processi, su quelli che sono le connessioni che ci permettono di creare e di rappresentare nuove relazioni all'acqua, al fiume, che creino connessioni, connessioni tra paesi, connessioni tra gruppi, perché un pescatore o un contadino dell'Egitto magari hanno molte più cose in comune nella relazione al fiume che non con il grande agribusiness del loro rispettivo paese. Ecco, scusi, interrompo un attimo questa affascinante descrizione. Nella guerra per l'acqua, tra l'altro, intervengo nella non guerra per l'acqua, insomma, mi rendo conto del senso con cui, dello grande sforzo intellettuale per smontare anche in parte questo concetto, però intervengono le grandissime multinazionali. Cioè, no? O no? Un po', cioè, allora, questa situazione del Nilo, adesso, ad oggi, sabato, ottobre, come è? Allora, intanto io suggerirei, la mia proposta è quella di, invece di parlare di guerre per l'acqua, le guerre non sono mai per qualcosa, le guerre sono contro, la guerra è contro l'acqua, nel senso di guerra contro la vita. Quindi, secondo me, questo ci permette poi di chiarire, di andare a vedere dove sono i problemi. Per farvi un esempio, la guerra civile, in Etiopia adesso, cosa ha fatto? Certo che l'acqua c'entra, l'acqua c'entra perché la guerra civile ha impedito ai contadini di seminare, prima della stagione delle piogge, e quindi adesso, nel nord dell'Etiopia, è in corso una carestia, ma non perché c'è poca acqua, perché non ha piovuto, ma perché c'è una guerra, una guerra contro l'acqua e contro la vita. Il ruolo delle multinazionali apre tutto un capitolo, ovviamente non abbiamo tempo, perché ci sono diversi gruppi e interessi economici. Allora, intanto è opportuno sapere, visto che siamo italiani in Italia, che questa diga del rinascimento dell'Etiopia è costruita da un grande gruppo italiano, che una volta si chiamava Salini, poi è diventato Salini in pregillo, oggi è WeBuild, è uno dei principali costruttori italiani, e tra l'altro è una storia interessantissima, che potremmo definire postcoloniale, perché è un'impresa italiana che è nata e cresciuta lavorando in Etiopia, perché l'Etiopia ha un territorio che si presta, che per un ingegnere, e una volta il mio collega ingegnere con cui lavoravamo insieme ai tempi all'ufficio della cooperazione di Addis Abeba, in Etiopia diceva, l'Etiopia è un parco giochi, è la sabbia, dove i bimbi vengono inglese, è un parco giochi per un ingegnere, perché offre per la morfologia talmente tante possibilità di costruire dighe. Peccato che siano poverissimi mentre noi giochiamo. Peccato che appunto, se lo guardiamo solo dal punto di vista ingegneristico, ecco perché è necessaria l'interdisciplinarietà, le connessioni anche tra saperi. Ci sono poi tutte le multinazionali dell'agribusiness. Quando si dice che l'interesse nazionale del Sudan è comunque, cioè la diga che l'Etiopia sta costruendo, fa anche l'interesse nazionale del Sudan, si pensa al fatto che la diga permetterà di controllare meglio le piene del Nilo che attualmente inondano le pianure del Sudan. Una volta che la diga permetterà di controllare meglio queste piene, in Sudan si potrà irrigare meglio tutte queste pianure, anche ottenere due raccolti all'anno, e finalmente il Sudan riuscirà a realizzare quello che è da sempre nella mitologia della formazione dello Stato, nella retorica del governo sudanese, diventare il granaio dei paesi arabi. Ma gli egiziani che sono gli ultimi fruitori di questa grande cosa, ovviamente. Ovviamente, ma esportare il grano sudanese in Arabia Saudita è l'interesse del Sudan, di tutti i sudanesi, o di gruppi economici legati all'elite politiche che governano in quel paese? Stesso discorso per l'Egitto. Qualche settimana fa sono andato al supermercato in Olanda e ho comprato dei fagiolini, siamo arrivati a casa e abbiamo visto che quei fagiolini erano made in Egypt, prodotti in Egitto con acqua del Nilo. La sicurezza nazionale dell'Egitto e produrre fagiolini che poi andiamo a smerciare, a vendere sul mercato europeo, olandese, o sono... ecco, ridurre tutto questo a una guerra per l'acqua purtroppo non ci permette di cogliere la complessità e le connessioni tra scale e tra temporalità che tutti questi fenomeni implicano. Allora, partire dal Nilo e finire i fagiolini e le guerre e da una grande diga è straordinario, grazie. È straordinario perché abbiamo aperto un ventaglio incredibile, cioè veramente stiamo uscendo dal detto, dalla normalità. Questo è ciò che deve fare la Biennale Democrazia, dare spunti per riflettere sulla complessità dei temi che si stanno discutendo. In genere umano, sembra, non è poco tornare da questi grandissimi sistemi al sistema nostro locale, alla nostra acqua. Che cosa può dirci della nostra acqua? E soprattutto io ho una curiosità prima di tutto, visto che è un bene così prezioso, che l'acqua è sempre uguale, no? Dall'inizio della storia? Dall'inizio della storia la grande quantità è sempre uguale, ma noi siamo sempre di più. Noi utenti che non siamo gli unici fruitori dell'acqua, ma siamo quelli più attivi che intervengono anche sul ciclo dell'acqua. Per esempio, quanta acqua perdiamo? Cioè, sto parlando delle perdite delle reti idriche. Beh, su questo tema particolare... Mi scusi se parto da questa cosa, ma parto sempre da... Sì, no, 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 è quello che attrae di più, anche vedo giornalisticamente, perché? Perché dover tutelare una risorsa, recuperarla dalle fonti più articolate e poi perderla durante il trasporto, è chiaro che la gente si chiede se abbiamo uno sviluppo industriale del nostro servizio oppure se siamo ancora rimasti a situazioni arcaiche. Le perdite medie a livello nazionale sono del 38%, a livello nazionale. Cioè, perdiamo quasi metà dell'acqua. Sì, più di un terzo dell'acqua. A livello locale siamo intorno tra il 24 e il 25%, tenendo presente che abbiamo 12.000 km di rete. Cioè, il sistema è un sistema che chiaramente deve essere anche valutato nella logica della lunghezza di reti che sono, diciamo, sollecitate a variazioni di pressione e quindi i giunti, i collegamenti tra la rete pubblica e la rete privata sono tutti quegli elementi che fisiologicamente portano. Naturalmente entro certi termini. Noi stiamo cercando di riportare tutto all'intorno del 20% con un lavoro enorme. Perché sono reti obsolete, perché molti comuni superato, si parlava prima di guerra per l'acqua. Molti comuni hanno fatto la guerra per il gestore, nel senso che vedere, noi gestiamo ben 290 comuni della città metropolitana, vedere il passaggio da un localismo alla grande società torinese che viene a gestire non era facile da accettare. Fondamentalmente quello. Perché? Perché il prima a livello locale c'era dall'assessore che andava di notte a girare le saracinesche al geometra che chiaramente sapeva tutto a memoria. Una volta che il geometra va in pensione non si ha più niente. Adesso abbiamo articolato tutto con una cartografia digitale, una presenza distrettuale e quant'altro. Ci sono ancora però dei temi su questo aspetto sul consumo. Cioè effettivamente la perdita è un discorso significativo. Ricordiamoci che la perdita vuol dire però acqua che ritorna in falla, normalmente. Quindi se c'è un certo quantitativo d'acqua è chiaro che l'elemento ha un peso ma non così elevato. La cosa strana è che nel sud si supera il 50% e nel sud non c'è un'elevata disponibilità d'acqua. Poi però c'è il consumo. E con i consumi noi ci attestiamo di nuovo a livello nazionale intorno ai 220-200 litri abitante giorno che nella realtà torinese diventano 170 litri abitante giorno. E' anche una questione di temperatura naturalmente tra nord e sud tra quantitativi e distribuzione. C'è effettivamente parlando respirando un po' a livello nazionale poi ritorniamo sul localismo quello che viene definito il water service divide cioè c'è effettivamente una grande differenza tra la realtà del nord e la realtà del sud. Tenendo presente che ben nel 94 quindi sono passati 27 anni era partita la rivoluzione per sviluppare la gestione industriale del servizio idrico integrato perché giustamente diceva prima Luca Lucentini c'è una parte molto significativa che sono le acque usate le acque refluo che devono essere trattate secondo determinati standard secondo dei livelli di qualità in modo da non impattare nel corpo ricettore e il fatto che noi invece di aver realizzato dico noi a livello nazionale tutta una serie di impianti e gestiti adeguatamente ci troviamo con 60 milioni di euro all'anno di sanzioni forse sarebbe stato meglio realizzare impianti e impostare dei gestori a fronte di una multa che di per sé va a rimpinguare le casse dell'Unione Europea. Quindi questa situazione è una situazione che porta anche a approfondire per esempio per quale ragione c'è quest'uso indiscriminato di acqua e minerali va tutto bene io capisco che gli elementi commerciali poi loro mediaticamente ci bombardano in televisione tutti i giorni con l'acqua che scende direttamente dalla neve eccetera eccetera però chiaramente abbiamo oltre 200-210 litri abitanti hanno come media nazionale quindi abbiamo i consumi più elevati di acqua minerale e poi c'è un discorso di tariffa io concordo con quello che diceva prima Luca sulla parte che la tariffa è bassa in Italia ed è opportuno che sia tenuta bassa nella logica che il servizio idrico deve essere un servizio sociale chiaramente quindi la tendenza è che se aziende fanno utili e aziende come la nostra per esempio fa utili quell'utile deve essere riportato in una logica di investimenti proprio per mantenere bassa la tariffa posso interrompere ricordiamo che ci fu un referendum 2011 2011 12 e 13 giugno magari anche voi avete partecipato perché vi dè una grande partecipazione 26 milioni di italiani sancirono con quel referendum che sull'acqua non si sarebbe potuto fare profitto cioè decisero di abrogare parzialmente una norma relativa alla tariffa dell'acqua che prevedeva l'adeguata remunerazione del capitale investito è una cosa estremamente complessa quindi togliere quel passaggio comportava niente più margini finanza speculativa o business adesso io le chiedo ma l'acqua è pubblica? L'acqua come come elemento indubbiamente pubblica e per legge è pubblica ma davvero pubblica la gestione è cosa diversa cioè il servizio per portare l'acqua a rubinetto raccogliere le acque usate e depurarle in Italia vede società tutte pubbliche quindi che rientrano come era smatti in quello che era un po' il dettame che gli italiani hanno voluto con il referendum società miste dove c'è già una presenza pubblico privata oppure società private è chiaro che il meccanismo delle società private in quanto sono portate avanti con capitali privati tendenzialmente vogliono vedere dell'ultimo quindi il sistema il sistema del referendario è stato rivisto in una logica che era una logica di poter consentire questi tre aspetti che sono gli aspetti previsti dall'Unione Europea quindi nella logica dell'Unione Europea il gestore può essere A B o C in questa realtà io sono ovviamente molto contento abbiamo un'assemblea di 290 sindaci recentemente hanno nuovamente ribadito il fatto che questa realtà rimarrà tutta pubblica e che questi utili allora avere degli utili vuol dire che a fronte degli standardati dall'autorità centrale e dall'autorità locale noi funzioniamo lasciatemi un altro termine siamo più efficienti e quindi abbiamo un margine una cosa è questo margine va a finire nelle tasche di qualcuno una cosa va a finire solo per investimenti è questo effettivamente ma di che cosa parliamo parliamo di un ordine di 20-30 milioni all'anno che ci consentono di avere e di ricaricare su quello che sono gli investimenti noi facciamo investimenti tra i 110 e i 120 milioni all'anno di poter utilizzare questa fascia mantenendo quindi una tariffa diciamo una tariffa sostenibile dal cittadino quanto è la tariffa nessuno la sa chi la decide la tariffa chi decide la tariffa allora tendenzialmente la propone il signore che è il direttore dell'autorità alzi la mano dell'autorità d'ambito torinese il dottor Ronco e poi viene invece cioè quindi viene proposta perché la realtà territoriale è conosciuta da un'autorità territoriale e poi invece viene al sigillo dell'autorità centrale che si chiama Arera e noi ci troviamo con un costo a persona il valore medio logicamente se la persona ha una piscina e ricambi e usi molto elevati è chiaro che il sistema diventa un sistema più caro perché è su consumo con un consumo medio ogni persona spende su tutto il ciclo dell'acqua compresi gli investimenti 10 euro al mese questo è il valore che mi sembra possa essere sostenuto a fronte fra l'altro di servizi dall'energia dal gas dai rifiuti da tutto quello che sperequazione c'è in italia in questa tariffa non c'è sperequazione perché il metodo è lo stesso è lo stesso il metodo è lo stesso poi c'è chi non l'appica questo è un altro discorso quindi c'è sperequazione se non viene nel sud dove non ci sono gli ambiti dove non hanno costituito dove c'è una gestione diretta dall'ente locale intanto gli investimenti non ci sono cioè noi siamo a 55 euro per abitanti e servito nel sud sono a 3 euro poi non ci sono contatori poi c'è la gente che non paga quindi detto tutto questo qui ringraziamo che i cittadini con il loro senso civico effettivamente ci lasciano pochi margini di morosità che è un bene ma io volevo però entrare un attimo su un aspetto particolare relativo all'estremizzazione dei fenomeni noi ci troviamo oggi con una criticità aggiuntiva che è quella relativa o a lunghi periodi di siccità o a periodi di fortissima piovosità sì è vero l'acqua è sempre la stessa alla fine dell'anno ci sono 850 mm d'acqua che vengono sul suolo di Torino però per 4 mesi e mezzo noi ci siamo trovati senza pioggia adeguata cioè perché quando solo l'ultima settimana è arrivata un quantitativo adeguato e quindi bisognava capire bisogna valutare quale può essere la diciamo la situazione a anni diversificati quindi fra 5 anni o 10 anni qualora il periodo di siccità diventasse non soltanto di 4 mesi ma di 8 mesi noi ci siamo trovati 6 anni fa con un periodo di siccità di 6 mesi e abbiamo dovuto portare l'acqua dalla pianura alla montagna perché tutte le fonti montane si erano asciugate perché hanno un bacino contenuto allora abbiamo rivisto un po' la situazione parliamo dell'acqua potabile poi rapidamente parliamo anche delle acque reflui come acqua potabile il discorso è dobbiamo cercare di recuperare quelli che sono in vasi montani e che fino a oggi sono stati utilizzati per produrre energia elettrica ottima come produzione perché è un'energia da fonte rinnovabile ma non hanno mai dato la priorità all'idropotabile perché erano nati per altre logiche noi siamo riusciti a sviluppare un grandissimo acquedotto quello per la valle di Susa e questo acquedotto per la valle di Susa ci consente in questo periodo avremmo avuto otto comuni già in crisi idrica di avere quel respiro che effettivamente chiedono tutti i cittadini che siano cittadini montani o altro se la regia manda un filmato è un minuto il filmato quindi possiamo continuare proviamo a vedere questa grazie la volpe della val di Susa a poca distanza dal confine tra Italia e Francia a quasi 2000 metri di quota si trova la diga di Rochemolle l'invaso formato dalla diga può contenere oltre 5 milioni di metri cubi d'acqua che in passato era usata per generare elettricità e poi riversata nel fiume d'ora oggi questa acqua di alta qualità naturale arriva nelle case di tutta la valle grazie a una nuova importante opera il grande acquedotto per la valle di Susa questa è la centrale SMAT di Bardonecchia è qui che l'acqua proveniente da Rochemolle viene controllata e potabilizzata con le tecnologie più avanzate da qui l'acqua riparte per raggiungere gli acquedotti municipali e garantire a ciascuno dei 27 comuni serviti un approvvigionamento idrico continuo in qualsiasi stagione nella centrale di telecontrollo i tecnici SMAT verificano costantemente il funzionamento dell'intero sistema i 66 chilometri di nuove condotte che hanno richiesto oltre 10 anni per la progettazione e la costruzione sono in grado di trasportare più di 500 litri d'acqua al secondo integrando gli acquedotti già in funzione e potenziano il sistema idrico della valle migliorando sensibilmente la qualità e la disponibilità dell'acqua per le famiglie per le imprese per le aziende agricole grande acquedotto per la valle di Susa acqua smat acqua di casa questo è un esempio virtuoso però rapidamente quali problemi bisogna risolvere allora superato questo e tenuto conto che abbiamo anche una falda che ci consente una certa tranquillità adesso sono all'inondazione e quindi nella logica dell'inondazione dobbiamo rivedere tutta la rete di raccolta e noi siamo già partiti con un grande canale che è un collettore che ha un diametro di 4 metri che costruiremo inizierà il lavoro dell'anno prossimo costruiremo purtroppo nella pancia di Torino perché deve essere un collettore che consente il trasporto da nord a sud da sud a nord scusate perché il grande impianto di depurazione ce l'abbiamo a Castiglione e all'interno del quale ci sarà l'alleggerimento delle reti meteoriche quindi dovremmo arrivare nel giro di 5 anni a superare quelle che sono gli allagamenti che adesso ogni diciamo d'estate ogni acquazzone troviamo nelle aree più critiche della città come di altri comuni quindi questo è l'altro aspetto questa grande opera che era tecnicamente definita il collettore mediano in realtà l'abbiamo da poco ribattezzata nella idropolitana nel senso che è la metropolitana delle acque la linea 2 della metropolitana delle acque la metropolitana delle acque abbiamo pochissimo tempo vorrei è una è stata una mattinata che ha veramente dato tante tante informazioni credo in grande parte inedite non è impossibile fare una conclusione però mi piacerebbe che ciascuno di voi dicesse ancora una cosa su sull'argomento magari per ciò che ha sentito dagli altri o per ciò che vorrebbe aggiungere molto rapidamente allora io vorrei ribadire l'importanza di trovare nuove rappresentazioni per affrontare il tema dell'acqua quindi rappresentazioni sia nel descrivere problemi che nel dar voce che rappresentazioni capaci di connettere e visto che si è parlato della tariffa di SMAT faccio un esempio e vi svelo come anche la tariffa che pagano i cittadini del torinese del lato di Torino si collega al Nilo non so pochi sanno quanto pagano di bolletta dell'acqua credo ancora meno sanno che un centesimo per metro cubo giusto di acqua erogata dal lato viene indirizzato a progetti di cooperazione internazionale allora con quei fondi lì finanziati dal lato torinese l'anno scorso due anni fa col centro piemontese di studi africani abbiamo organizzato due seminari uno sul Nilo uno sul lago Chad proprio per sensibilizzare e promuovere nuove rappresentazioni e per connettere e per far capire come appunto occorre tenere insieme la scala globale a quella locale quindi anche questo anche la tariffa e la bolletta dell'acqua in qualche modo ci può connettere a scale che consideriamo lontani come quella del Nilo Luca Lucentini io lascerei a lei la parola finale addirittura grazie no penso che le conclusioni sono connettere vorrei aggiungere ed è forse la parola più bella perché alla fine se pensate quell'elemento può anche aiutare la gestione delle migrazioni perché molte migrazioni avvengono per crisi idriche fra l'altro e non è molto noto quindi investire significa anche connettere queste ma costruire vuol dire anche dialogare in un modo laico in un modo non pregiudiziale non ideologico a priori mantenendo dei capitali mantenendo l'accesso all'acqua delle conquiste che sono inimmaginabili e che vanno mantenute e scolpite nella pietra ma per esempio rispetto alla costruzione di dissalatori che possono essere delle realtà da prendere con le molle perché attualmente sono energivoli possono avere degli impatti però immaginiamole come una risorsa importantissima e qui la connessione acqua-energia è importantissima noi parliamo di acqua e di crisi ma è l'energia che gioca moltissimo ruolo se avessimo delle energie sostenibili per mantenere un dissalatore potessimo pensare a un dissalatore offshore moltissime crisi idriche di zone costiere dove vive la maggior parte del mondo potrebbero essere gestite quindi lavorare in modo laico finanziando ricerche finanziando ricerche sulle energie rinnovabili vuol dire connettere l'acqua questa volta una volta tanto apportando risorse all'acqua e non solo utilizzandole grazie come sempre la parola chiave è ricerca 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 bisogna investire in ricerca e in un'ora esatta abbiamo parlato dell'acqua del mondo non abbiamo detto tutto ma abbiamo detto tanto speriamo che vi sia piaciuto grazie 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 a tutti